Ciro Di Francia, Presidente dell'Osservatore per la Tutele della Salute e dell'Ambiente. In una nota protocollata nei giorni scorsi, inviata ai commissari di Quarta, al Sindaco di Pozzuoli e all'Asola Napoli Due Nord, lei chiede delle direttive specifiche cosa è stata messa in gamba per la mappatura dei cittadini di Quarta e Pozzuoli che sono stati inseriti nell'elenco degli 88 comuni della Campania per uno screening. Se mi consente vorrei fare una precisazione. Siamo particolarmente arrabbiati i presidenti delle associazioni dell'area Flegreo Giulianese perché possiamo comprendere tutto, ritardi, necessità, segretazioni, inchieste della magistratura eccetera ma quando si ricorre poi a dei veri e propri falsi, quando si pubblicizza sulla stampa che in effetti anche questa volta le responsabilità sono dei cittadini perché addirittura non si presentano a degli screening organizzati allora è consentito a questo punto arrabbiarsi veramente. Cosa intende lei che i cittadini non si sono presentati? Abbiamo finanziato per le province di Napoli e Caserta e per Taranto 50 milioni di euro per gli screening sulle popolazioni per accertare se le popolazioni che vivono in questa realtà sono state danneggiate dai rifiuti tossici e sottolineo dai roghi tossici. L'Istituto Superiore della Sanità avrebbe dovuto, d'intesa con la Regione Campania definire quali tipi di accertamento fare, invitando le popolazioni. In questa realtà campana solamente un'asile di Caserta ha inviato delle lettere per accertare sangue occulto nelle fesci. Non credo che possano essere questi gli accertamenti fatti. Allora noi ci siamo rivolti, le quattro associazioni dell'area Follegreo Giulianese ci siamo rivolti al sindaco di Pozzuoli, al direttore generale dell'asile e al commissario di Quarto, specifico perché solamente Pozzuoli e Quarto perché i due comuni sono inseriti in questa direttiva ministeriale tra gli 88 comuni interessati per la mappatura dei terreni. Per stabilire a questo punto se anche le popolazioni Follegreo Giulianese sono state colpite, sono interessate senza voler fare allarmismo senza voler essere nemmeno tra i negazionisti noi vogliamo capire, vogliamo la verità perché solamente attraverso l'accertamento della verità noi potremo a questo punto salvaguardare l'agricoltura campana il territorio napoletano, il territorio Follegreo le nostre bellezze, il nostro angolo di paradiso perché a questo punto si ricorre alla bugia perché si ricorrono a degli spot pubblicitari anche tramite Gigi D'Alessio a Capodanno per poter far veicolare dei messaggi che sono poi messaggi falsi e questo è un'altra domanda al direttore generale di L'Alessio al sindaco di Pozzuli e al commissario di Quarto.